Italia 1! Non ti muovere di lì. Papà! Era meglio interrogare questo Peter Petrelli. Trovate la ragazza, proteggetele! È sincero. Non fidatevi. Hai detto che la vostra missione è fermare la bomba a New York. Sì, e il nostro dono è di no. Mi impossesserò di un altro potere, quello di tua figlia. Heroes, domani sera 23.15 Italia 1. Ti ho già detto di smetterla, Gabriel! Mi chiamo Sylar!